Per questo gruppo con Fefe da campioni d'Europa è la prima volta che giocate in Italia, innanzitutto che emozione è? L'emozione è tantissima, oltre ad essere campioni d'Europa in carica, per me è anche la prima volta personalmente, quindi molta molta emozione, il primo set un po' se visto, un po' contratti, un po' poco lucidi in delle situazioni, magari anche un po' di nervosismo che ci ha fatto perdere il primo set, poi ci siamo sciolti, abbiamo giocato il nostro gioco, siamo migliorati in tutte le parti, in tutte le situazioni del gioco. In diversi momenti questa tensione se vista, però siete sempre stati bravi a reagire? Sì, perché insomma è da tanto che stiamo lavorando, vogliamo far bene qui in queste finals di WNL in Italia, insomma nonostante un primo set brutto, però comunque ci siamo rimessi lì, siamo stati lucidi, con la testa attaccati alla partita, abbiamo messo un po' più di volume di gioco con le difese, meno errori, più magari cercare di rigiocare se la palla non era buona in attacco e così siamo riusciti a cambiare il decorso della partita. Avendo battuto l'Olanda una o due settimane fa, non più tardi, ed essendo questo il debutto, il quarto di finale dentro fuori poteva essere un ostacolo, vi ha pesato un po' questa cosa mentalmente? Non ci abbiamo tanto pensato, però è sempre un po' così, l'ultima partita è stata contro l'Olanda, contro l'Olanda vinta tra zero, ti ricapita quindi una partita secca, loro avevano anche spirito di rivincita rispetto all'ultima partita, ma abbiamo dimostrato penso gli ultimi tre set di essere superiori, superiorità che poi ci ha portato alla vittoria di questa partita.